no ma ragazzi ma guardate che carino che mi ha mandato la prt praticamente è una mini stampante di etichette un'etichettatrice quel suo cordino per appenderla così ve la potete portare dappertutto per stampare le etichette non so che del sale dello zucchero della pasta in qualsiasi contenitori volete mettere e in più sono plastificate e resistenti all'acqua io poi voglio fare anche sai sul citofono i nomi del citofono che sono sempre fuori all'aria aperta all'acqua all'intemperie perché il mio citofono è così è fuori non è coperto diciamo con l'etichetta con il nome sul citofono così anche se piove è plastificata e non si bagna adesso vi faccio vedere come funziona basta scaricare l'app sul telefonino che adesso vi faccio vedere arrivo allora l'app basta scaricarla sul telefonino purtroppo io ho quello di mio marito perché dove l'ho scaricata sul mio di cellulare sto registrando e quindi devo usare questo che è un po vecchio e quindi non è che funziona molto bene comunque una volta scaricata l'app basta fare la connessione con l'etichettatrice bisogna accenderla tenendo premuto finché diventa verde ecco vedete così è accesa e fare doppio clic per scrivere non so scriviamo facciamo il contenitore dello zucchero così non me lo confondi con il sale marco va bene scriviamo zucchero ok ok zucchero stampa che si collega collegare la stampante che la stampante connessa stampa e stampa guardate che carino zucchero e qui sotto c'è la taglierina basta schiacciare e si taglia no guardate zucchero non so se si vede bene insomma qualsiasi etichetta potete fare le potete fare più lunghe più corte e poi non solo si può scrivere poi non so ci sono collegato batteria impostazioni si può stampare tutto e non solo le scritte ci sono anche gli adesivi disegnini la data facciamo una data per esempio data oggi è il 24 aprile del 2024 proviamo allora vediamo se acceso si stampa stampa e vediamo stampa 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 ecco e qua c'è sempre la taglierina la data no ma e per per attaccare si apri da sotto con l'adesivo no guarda che carine e sono tutte plastificate e impermeabili e allora per metterlo in carica come il cellulare si infila dentro il suo spinotto e lo inseriamo tra come il cellulare e quando poi il puntino rosso diventerà verde vuol dire che è carico no ragazzi no guardate che carino e come sempre vi lascio giù nell'info box il link per chi vuole andarlo a vedere e c'è bianco verde e rosa è io me lo sono fatto arrivare bianco comunque ragazzi veramente utile è proprio una piccola stampante sempre a portata di mano ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti